Un incendio di grosse dimensioni ha travolto una palazzina a Calalzo di Cadore nel Bellunese. Il fuoco nell'edificio a tre piani si è esteso rapidamente, messe in salvo due persone che si trovavano in casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pieve di Cadore, ma sono giunti rinforzi anche da Cortina, Belluno e Santo Stefano. Un gran dispiegamento di soccorritori. Erano presenti i 17 mezzi dei vigili del fuoco. Bruciate nel rogo anche delle baracche e nel cortile interno delle case. Le strutture delle abitazioni risultano gravemente danneggiate. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.